Su Card Trader potete trovare tutte le carte che volete dei vostri giochi di carte collezionabili a spedizione gratis, esatto, spedizione 0, completamente gratuito con un nuovo servizio e in descrizione trovate il link d'accesso che con la registrazione vi consente di avere un bonus d'accesso speciale Ciao a tutti ragazzi, sono Trinky della The Grado Family, oggi apriamo un'altra collezione leggendaria di Yubio come sempre, come dal video precedente abbiamo le tre divinità egizie, Mago Nero, Dragonero Occhi Rossi e Drago Bianco Occhi Blu le sei buste ristampate ovviamente non in prima edizione, ci mancherebbe altro ma figurati e poi una carta che si chiama tipo quarto del secolo o Starlight, non so era la segreta quarto di secolo, ok, si chiama così, perfetto procediamo subito all'apertura box precedente c'è andata un po' male perché abbiamo trovato solo due super, però vabbè una era il Mondo Toon, l'altra ricarica, quindi il Mondo Toon mi piace un casino, la ricarica un po' meno comunque, vediamo cosa troviamo qua allora abbiamo queste e le sei buste come sempre quindi le mettiamo qua, sperando che si vedano tutte si, ok, direi che si vedano tutte le mettiamo qua questa la mettiamo qua così un po' da sfondo e apriamo subito queste stavolta non vi faccio vedere il retro se no capite subito che cos'è nel caso c'è una delle divinità egizie ok allora abbiamo sempre le solite tre sempre le solite altre tre e il ok peccato ce l'ho già è bellissima però ce l'ho già preferivo drago bianco o chi blu o almeno non ce l'avevo vabbè nel caso la scambio per magari drago bianco o chi blu ecco ok allora direi di partire sempre facciamo sempre in ordine di non preferenze sono quelle che mi fanno più schifo quindi partiamo da questa sovrano della magia sovrano della magia andiamo al trick dietro questa allora abbiamo pavone basta si chiama pavone e basta una volta le carte erano semplici questo che non voglio pronunciare il nome uccello regina la ricetta per fare l'hamburgerone previsioni meteo non mi piove spoiler octoberfest no inizio delle danze ok e ok buono godo ci sta tanta roba questa rare si giochi in edison quindi mi va benissimo mi va benissimo poi passiamo alla prossima direi crisi oscura se non ricordo male dall'ultimo video dobbiamo mantenere sempre lo stesso ordine ma vediamo un attimo sinceramente allora ok ok così prova del fuoco del fuoco difensore incrollabile dark scorpion quella che non si gioca ruggita da arcidemone cicatrice di guerra arco della stella cadente samurai sasuke su kuyomi ok fortissimo in got e il pugnale a farfalla il maledettissimo pugnale a farfalla va bene va bene va bene niente di che però ci sta allora passiamo alla prossima direi il servitore del farone le mie preferite sono queste due però anche il servitore del farone ne ha di carte belle dentro in realtà allora mi dispiace non aver potuto registrare la la terza che era la prima ho trovato guardiano del cancello magari ve la faccio vedere a fine video quella tanta roba peccato guaritore danno scade il cielo ok questa fortissima di side molto bene cyber falcone neve sferzante pioggia desideri solenni grande tumulto e ok questa fa abbastanza schifo ok però intervento sul dna decente 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 ne ha dei predoni metallici speriamo di trovare almeno un'altra super o una ultra visto che non ne ho ancora trovate di ultra ok allora antico cervello il re musicista evocabile di fusione istantanea si lampada mistica la guardia del labirinto il fiore alcobaleno il mago senza volto lucerto l'elettrica il clown che non è pitten e il mago della fede forte forte in got tanta roba rare rare devo dire tanta roba le foil molto meno che non si trovano però va bene la mia giandata di lusso che appunto nella prima che purtroppo non sono città registrato ho trovato guardiano del cancello secret però va bene allora sono appiccicate le carte alla busta perfetto allora abbiamo il granadora il bogagnan non anche questa ci sta mi sembra che l'artwork sia diversa dal solito mai visto sto artwork tartaruga don bellissima lucerto la mongolfiera inferno anche questa stupenda vabbè questa assurda recupero sta busta common tanta roba vediamo dietro magari no ok questo fa schifo però common veramente tanta roba vabbè invasione del caos c'è della roba assurda invasione del caos e questo sono le migliori poche poche palle allora ok ok abbiamo tartaruga tigre yami insetto della foresta uovo mostro mammut delle tombe il mangiatore di uomini l'uccello teschio rosso l'acqua di radice e ok sempre vocabile di instant fusion però veramente povero è questo cioè almeno lo scorso erano due super questo una super che è questa qua che non a parte che penso sia bandita poi non penso ci posso giocare da nessuna parte forse in gotta ma non mi sembra si giochi ok questo era l'unboxing devo dire tutte e due andati male sinceramente questo veramente malissimo però almeno le rare sono giocabili cioè tsukuyomi giocabile in GOT questo è giocabile in edison GOT e poi vabbè qui alcune sono giocabili però diciamo che è andata male veramente male anche perché questa ce l'ho già ripeto quindi eh molto male questo vabbè è andata così niente ragazzi questo era il video e continuate a seguirci adesso vi faccio vedere giusto il guardiano cancello se lo trovo se no mi sa che ce l'ho nell'album ok un attimo lo prendo ok un attimo che accaduto tutto allora esatto esatto allora nel box quello che non sono riuscito a farvi vedere ho trovato queste quindi guardiamo del cancello che è probabilmente quella che costa di più di 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 MRD che non mi ricordo qual è delle 6 vabbè poi questo qua quindi ce l'ho già e natura selvaggio e il resto sono sempre le stesse quindi tanta roba lo tiro fuori giusto per farvelo vedere meglio ma è veramente bello questo assurdo non ha senso troppo forte ok questo era il video ci vediamo niente al prossimo video ciao